Che vuol dire che ci hanno votato il conto? Lui mi ha rubato tutto. Io sono stato in questa casa con questo Marcello per una innocente carbonara. Sei licenziato. Fuori! Ma io l'ho trovato. Fa il chirurgo. Ma chi ci è andato in banca? Vigile. Ma come non lo conoscete? Dove lo trovo questo padre Marcello? Come fa di cognome? So solo che ama i loro. Loro chi? Quando qualcuno ha gente di loro la gente cosa risponde? Loro chi? Loro i ladri. Che altro ti manca per scrivere la vendita? Un martello. Insomma che cosa vuoi da me? Ti risarcisco. Dove vai tu? Vengo io. Ma perché? Non ti fidi? No. Che banda? Noi siamo una famiglia. Come tutte le famiglie cerchiamo di arrivare a fine mese. Pisello come si chiama la suite? Il dottor Pisello. Diciamo che sono un compositore della realtà. Tirato! In alto! Che cazzo fai lassù? E mi ha detto vai in alto, sempre più in alto, sali, sali e qua sto. Redi. Adesso piangi. Sul tram. Godi. Come ha detto scusi? Sognavo di vivere proprio così. Io non voglio salsino, guarda solo. Anche se ho un colpo da due milioni di euro. Guarda che io imparo in fretta. Il mio cane ha trovato un piede. Ma è certo che ho mano, c'è la scarpa attacchata. In posizione. Tre, due, uno. È la magia dell'arte. Spargi gioia e prendi grana. I loro. Voi conoscete i loro? Il truffato deve supplicare per avere una sua truffa perché io realizzo i suoi sogni. Lei deve aiutare la giustizia. Il truffato deve supplicare per avere una sua truffa perché io realizzo i suoi sogni.